e chi mi ha seguito anche in America con i miei specchi allora innanzitutto voglio avermi alzare a tutti gli amici che sono venuti perché questo qui è più che una festa di compleanno, è un po' una festa della musica perché è quello che ci accomuna un po' alla musica infatti qui con me c'è dei musicisti c'è anche mia mamma, c'è un parente, c'è la mamma di Alessio che ci segue da... allora cominci da qua allora Alessio che oltre ad essere un grandissimo batterista secondo me è anche il più giovane, tira giù di brutto la media la media della venda è giovane anche sua mamma, che sfiduartemi lui cioè voglio dire, Alessio Gavioli posso dirne una roba, un grande bassista non mi fraintendete perché che è anche il nostro compaesano per chi capita qua rubo il minuto il festeggiato però adesso devo cominciare a suonare perché la mia testa in questi due giorni è ancora un pochettino là in America però se mi concentro riesco un pochettino suonare questo brano... grazie questo brano l'ho composto a 49 anni ho composto semmai perché tutti lo sanno che non mi piaceva ne più semmi a 49 anni ne ho fatto uno, cosiddetto non posso più rompere le balle però adesso che ne ho 52 mi piace ancora vuol dire che ho fatto una bella cosa no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.